Ma guarda quella là, Betta va a raccogliere fragole, ma quella scherzava, ma mica diceva sul serio, te volevo insegnare a recità, a recità, ma che poi, ma che è recità, ecco, come se io adesso qua volessi fa un'altra, ecco qua, mi sento un'altra, ecco che recito, ma a te non te va eh, ma è come quando mi racconti qua favola, quella tanto divertente da farfalla, come fa? Io sono farfalla, mezzo bianca, mezzo gialla, fa un po' vedere con le manine, ma lo vedi che stai recitando pure tu, così, oh, fia mia non zagaia, però mi raccomando che stai zagaia, è la fine eh, tu non devi dare retta a quella delle fragole, tu devi dare retta a mamma tua, me fanno ride tutte quelle donne al cortile, a fia mia, a fia mia, a fia mia, ma quelle, ma quelle non hanno la stoffa, tu sì che puoi fare attrice, tu la puoi fare attrice, non sei fia mia tu, anche io si avessi potuto, vabbè vabbè, fammi un po' vedere come ti sei combinata, forza, vediamo un po' quella riga a mezzo come stai, me fanno mia quanto sei brutta, niente niente, tutti indietro come mamma tua, qua, patata bella!